Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un brano bellissimo di Tracy Chapman che è in Talking About Revolution. Bene ragazzi, questa canzone si compone soltanto di quattro accordi che sono Sol maggiore, quindi se questo dove ci sono i due tasti neri a sinistra c'è il Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Si, Re e Sol maggiore, poi avremo proprio il Do maggiore, Do, Mi, Sol, poi accanto Re, Mi, Mi, Sol, Si, avremo il Mi minore e andando indietro il Re maggiore, Re, Fa diesis, La. E ci sono solo questi quattro accordi per tutta la canzone. Poi noi possiamo portarla così, un movimento a ogni accordo oppure anche con due raddoppiando. What is the end of the world for life? Running the doorstep on those amazing salvation. Weasen time and I blow my lines. Think to run and wait for a promotion. Don't you know Talking about the revolution songs. Eccetera. Anche nella parte dove c'è Don't you know you better run 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 è sempre uguale, non cambia mai. Anche nel ritornello rimane sempre identico. It's finally the table I started to turn Talking about the revolution It's finally the table I started to turn Talking about the revolution Talking about the revolution Ed è sempre uguale dall'inizio alla fine. Bene, come abbiamo visto anche questa era una canzone molto semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio comunque un link su dove trovare il testo con gli accordi. Poi altri due link che riguardano proprio come imparare gli accordi al pianoforte ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Ciao, alla prossima!